Le foto non mentono. E il settimanale chi le ha in mano? Le ha pubblicate sull'ultimo numero in edicola. Foto che testimoniano come Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti provera siano una coppia. A Villa d'Este tra i due ragazzi le è dimostrata una certa intesa che sfocia in sorrisi, poi abbracci e un bacio che sarebbe arrivato poi nella notte di Halloween, almeno così sembra. E pensare che a poca distanza da Villa d'Este luogo amato da George Clooney, c'è Villa Matilde, la dimora di lusso acquistata con l'ormai ex marito Fedez. Destino o no, Chiara ha deciso di voltare pagina, di guardare avanti con un sorriso tornato a risplendere come quello di un tempo. E poco importa se il gossip con il manager di moda, Silvio Campara, è finito nel nulla dopo una frequentazione di alcuni mesi. E così dal mancato viaggio esotico con Silvio, a Ibiza, Chiara ha conosciuto meglio Giovanni. Meglio perché i reciproci figli vanno già nella stessa scuola elementare. Tronchetti provera Gerre è separato da circa un anno e ha tre figli. Una situazione simile alla più giovane, di quattro anni, è Chiara Ferragni. Insieme, come le cinque pagine dedicate da chi dimostrano, hanno trascorso un intero pomeriggio. Poi sempre insieme hanno fatto ritorno a Milano per festeggiare, senza di lui, il compleanno di mamma Ferragni. Ma tra i due c'è qualcosa. E quindi si rivedranno, ci saranno altre foto, ecce, ecce. E voi cosa ne pensate?